si vabbè ma io sto ancora usando i droni non sto usando le cose d'assalto vabbè lino ehi nel dubbio ancora ci guardavo un po' strani sei tipo ma che cazzo fai doppio assi allora vediamo dove state birichini base loro sempre forse di turno ci stiamo dietro però lì visti lancati la granata perché c'ho la missione non posso farla pezzo da me raccogliere il famas mi facevo le missioni vabbè dai con un proiettile ho fatto, ho ucciso uno con un proiettile è rimasto P90 vediamo il P90 è buona, molto buona come arma lo vediamo subito unica cosa è il danno, mamma mia che schifo il danno ma io ci avrò anche il perchè mi recupera la vita più in fretta ma mamma mia e ci mette l'azzo serve un cazzo la cosa dovevano fare che la vita si deve recuperare in modo più veloce che ci mette veramente però c'è non dico come code perché lì è sgravo però un oggetto tipo t la seringa ti recupera eh quello è figo come cosa qui qui qualcuno ha fatto nessuno qui sì non ci va giù eh non ci va giù ci ho pensato io lì no bella un po' il famas che c'è le missioni che c'è sto teppere moto no non so ma mi sa che è proprio una cosa della mappa a questo punto si perché si distrugge il pezzo qua hai capito? evoluzione della mappa in game una cosa per capire ma non copii eh male non è ok ok due base nostra beh non è male come partire per niente questo è quel cecchino no questo è vero però pure io che sparo di no scoop cristo dio ah carino bombardamenti visto? oh cazzo ok sempre base nostra push ecco no vabbè tu vissi una morte in culo io non trovo più nemici manco io tu che arma sciai va bene madonna se vedi le kill che si è fatto questo mi sa che ha fatto la giocata forse a me se non mi tira giù il nemico mi tira giù il suo cazzo drone d'accompagnamento quanto è fastidioso sarà utile però quando lo ritrovi contro ma quanti colpi ci vogliono per un posto aveva pensato al momento in soli proprio l'ultima di ma non ho fatto l'alcino cioè non ho fatto la playlist di roma ma io ho infatti le foto io questo questo è il racconto più noto di scopo ora quanto è gravata l'alcino no vabbè veloce per qualità però ah così che stere cioè una doppia kill si va bene o belli quanti grazie belli belli e se tu so vecchio io ballo perchè so giovane ok vediamo la prossima mappa ma che c'è cosa più carino fammi aprire la supply oh c'è dumb vota dumb lino si sta camperando quello questo è un altro tryhard lino mi sa mi sa quanti livelli ci dovresti 1v1 se l'è dietro oh bella buono vabbè poteva anche evitare perchè 2 secondi mancavano scusa come? 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 ok ok ha un hp da mi recuperare 1 fuori logo bello io planto ok dove planti d ma fa la planta 3 anche che li allinei vada sta rum e noi facciamo tutti in un video gab come vuoi tu come preferisce vabbè ma tu sei veramente insane allora scusami eh ma ancora oh però brutto non conoscere le mappe vero? eh abbastanza credo su B Pietro quanto B vai vai mi è passato uno non se ne è accorto morto? bella ultimo e quando mai mi sa ah no il team scusa credo da me no yeah 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 ecco ma difendiamo vediamo questi morasciano come maialini uff uff immagino un bel fan croco con la faccia di dio da defa su beva vado anch'io perché è un po' grande sarebbe con quale prefazzo è andato ehm credo c'è il cazzo ma sei tu 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 no ok dovellino dovellino ok se che ti faccio sognare namo mi sape stato da morire che tipo sei arrivato mi è arrivato in faccia in faccia dovrebbe essere sua mia come finisce quello c'è la stamina eh 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 alla code eh potete ucciderlo forza ragazzi eh è stato bravo è stato bravo però anche io che vai sul mirino di pacco sul mirino di pacco sì ma che cosa ma che cosa non è che ti distrae di pico però praticamente ti dice dove l'hai colpito o dove lo sta colpendo ah ok ahahah boh 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 vai vai vediamo poco dice davvero colpisci ma lo colpisce almeno visto boh 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 che mostro mamma mia nastis beck eh 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 beck beck ee 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 Sì